In base al pre-report settimanale di Ministero Salute sui dati pandemici, la situazione del Piemonte continua a migliorare. Tutti gli indicatori evidenziano la frenata della pandemia. L'RT puntuale, calcolato sulla data di inizio sintomi, scende da 0,73 a 0,54 e migliora anche l'incidenza. Ma migliora anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva e quello dei posti letto ordinari. Valori entrambi sotto la soglia di allerta. Abbiamo numeri in costante e netto miglioramento, commenta il governatore Alberto Cirio, e da oggi possiamo finalmente togliere le mascherine all'aperto, come del resto d'Italia. Tutto questo è merito dei vaccini. Per cui, esorta il presidente alla sanità Luigi Carti, continuiamo a essere responsabili e vacciniamoci. In diminuzione comunque sono anche i morti. Purtroppo i medici ospedalieri accusano sempre più stanchezze e diffondono un'indagine della federazione CIMOS-FESMED in base alla quale in Piemonte quasi il 72% dei medici ospedalieri sta pagando il forte stress accumulato nei due anni di Covid, con ricadute sul lavoro, sulla vita familiare. Intanto l'AIFA si è portata avanti spiegando che in Italia ci sarà anche il quarto vaccino, che non sarà una quarta dose, ma un richiamo, speriamo, annuale, con il quale comunque dovremo fraternizzare.